Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione di geometria analitica sulla retta. Oggi parleremo di rette parallele e rette perpendicolari. Dobbiamo sempre rifarci all'equazione generale della retta e per fare questo ricordiamo però come è strutturata perché così andando avanti nella trattazione ritroveremo queste due lettere m e k e capiremo a che cosa ci stiamo riferendo. Allora l'equazione generale della retta abbiamo visto si può sintetizzare in y uguale mx più k dove m prende il nome di coefficiente angolare e il coefficiente angolare indica l'inclinazione della retta rispetto all'asse x. Invece il termine k che prende il nome di termine noto può essere presente oppure no indica abbiamo detto la coordinata y del punto di intersezione con l'asse y cioè ci indica sostanzialmente detto con parole più semplici esattamente il punto in cui la nostra retta interseca l'asse y. Se il termine noto non è presente possiamo immaginare quindi che sia uguale a zero questo significa che la retta passa per l'origine degli assi. Vediamo adesso quindi che cosa accomuna le rette parallele. Ho disegnato con geogebra come potete vedere tre rette una rossa una verde una arancione che evidentemente insomma lo si vede anche a occhio sono parallele tra di loro. Se andiamo ad osservare l'equazione di queste rette possiamo osservare che in effetti qualcosa in comune lo hanno. La retta rossa ha equazione y uguale 2x più 6. La retta verde ha equazione y uguale 2x. La retta arancione y uguale 2x meno 4. Cos'hanno in comune queste rette? Ebbene queste rette hanno tutte lo stesso coefficiente angolare. Potete osservare che in tutte e tre il coefficiente angolare m è uguale a 2. Ecco che nella prima retta riconosciamo appunto 2x, nella seconda analogamente 2x, nella terza retta 2x. Riassumendo quindi ricordiamo e riconosciamo le rette parallele perché hanno lo stesso coefficiente angolare cioè la stessa inclinazione rispetto all'asse x. Andiamo invece adesso ad osservare due rette perpendicolari. Abbiamo messo in evidenza attraverso la funzione angolo che l'angolo da s formato è proprio di 90 gradi. Osserviamone però fin da subito l'equazione. Allora l'equazione della retta rossa come potete vedere è y uguale 2x più 1. Invece l'equazione della retta verde così come ci viene proposta da GeoGebra è y uguale meno 0,5x più 1 che noi possiamo riscrivere nella forma diciamo più familiare quella che si utilizza normalmente a scuola ovvero y uguale meno un mezzo x più 1. Le due scritture sono assolutamente analoghe perché sappiamo bene che il valore della frazione un mezzo è 0,5. Ebbene anche queste due rette a livello di osservazione sul coefficiente angolare hanno qualche cosa che le accomuna perché andiamo ad osservare bene i due coefficienti angolari quindi 2 nel caso della retta rossa e meno un mezzo nel caso della retta verde. Che cosa osserviamo? Beh osserviamo che anche qui qualcosa in comune c'è ovvero le due rette hanno coefficienti angolari discordi cioè discordi significa disegno differente e reciproci. Reciproci ve lo ricordo significa ottenuti facendo la frazione inversa quindi 2 diventa 1 fratto 2 cioè un mezzo. Rivediamo bene quindi la relazione che lega i coefficienti angolari. Se la prima retta la retta rossa ha coefficiente angolare 2 vedete la retta verde ha un coefficiente angolare di segno diverso e come valore assoluto il valore assoluto è l'inverso della frazione 2 primi cioè un mezzo. Andiamo quindi a osservare ancora proprio sull'equazione della retta questa relazione che le lega 2 e meno un mezzo. Quindi dall'osservazione dei coefficienti angolari anche senza bisogno di andare effettivamente a tracciare le rette sul piano cartesiano possiamo verificare questa relazione la relazione di parallelismo o di perpendicolarità tra due rette. Vediamo come si fa operativamente. Allora se a partire dall'equazione di due rette io osservo coefficienti angolari uguali come ad esempio in y uguale meno 3x meno 1 e y uguale meno 3x più 6 due rette che hanno entrambe coefficienti angolare meno 3 ebbene ne posso dedurre che le due rette sono parallele. Se invece osservo coefficienti angolari discordi e reciproci come ad esempio in y uguale 2 terzi x meno 2 e y uguale meno 3 mezzi x più 4 e se mi fermo un attimino a guardare bene i coefficienti angolari posso proprio osservare questa condizione ovvero hanno segni differenti cioè sono discordi e sono l'uno il reciproco dell'altro. Vedete che il secondo coefficiente angolare in termini di valore assoluto è proprio l'inverso della frazione coefficiente angolare della prima retta. Ebbene se mi trovo in questa situazione ne posso dedurre anche senza bisogno di disegnare le rette che le due rette sono perpendicolari. Attenzione ragazzi quando si analizza la condizione di parallelismo di perpendicolarità i valori dei termini noti non hanno assolutamente nessuna influenza quindi non ha importanza andarli ad osservare. Bene ragazzi vorrei ancora farvi vedere come utilizzare GeoGebra per esplorare questa condizione di perpendicolarità ok perché GeoGebra ci mette a disposizione uno strumento specifico proprio per tracciare la retta perpendicolare. Allora partiamo però dal disegno di una retta qualunque andando a fissare due punti non la faccio passare per l'origine per non avere sempre come dire questa situazione standard delle rette passante per l'origine posso anche andare a modificare l'equazione la visione dell'equazione della retta in maniera che mi sia un pochino più familiare. Ok allora per tracciare una perpendicolare a questa retta vedete abbiamo a disposizione il pulsante retta perpendicolare. Che cosa è sufficiente fare? GeoGebra ce lo dice selezionare un punto ed una retta perpendicolare. Allora guardate io trovo sia molto comodo lavorare in questo modo andiamo sulla nostra retta ed individuiamo il punto direttamente sulla retta ad esempio io voglio vedere l'equazione della retta perpendicolare passante per il punto A allora vado a cliccare sul punto A scusate ok quindi clicco anche sulla retta e vedete che il sistema cioè GeoGebra mi propone la retta perpendicolare passante per A. Posso verificare che è perpendicolare usando la funzione angolo ma noi chiaramente ci fidiamo. Andiamo ad osservare meglio l'equazione della retta e possiamo proprio vedere come ecco questa seconda retta abbia un coefficiente angolare che noi ci aspettavamo ovvero discorde cioè di segno differente e reciproco 0,5 equivale ad un mezzo ok se noi adesso utilizzando lo strumento muovi andiamo a modificare l'inclinazione della prima retta e quindi andiamo a spostare la nostra prima retta teniamola appunto sempre vincolata all'asse Y perché così ci può essere utile effettuare un'osservazione in questo modo ebbene possiamo vedere che il coefficiente angolare della prima retta come potete vedere è 4i4 quindi la nostra retta adesso ha modificato ovviamente la propria inclinazione rispetto all'asse X e di conseguenza la sua perpendicolare ha un coefficiente angolare discorde e reciproco 0,25 è un quarto sostanzialmente ok quindi il nuovo coefficiente angolare della retta perpendicolare è meno un quarto. Bene ragazzi con questo è tutto potete esplorare questa condizione di perpendicolarità con GeoGebra anche tracciando più rette e verificando contemporaneamente le due condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Vi saluto e arrivederci alla prossima video lezione ciao